Robin, serve che ci fai un video sulla musica, sui suoni, su... Tu non usi qualcosa per... mentre lavori, quando ti vuoi rilassare, ti vuoi ispirare, eh? Sì, Robin, qualcosa... come utilizzare i suoni per lavorare meglio, eh? Che ne dici, Robin? Robin? Oei! Robin, ma qualche consiglio sulla musica, sui suoni? So che tu sei un appassionato di musica, ma che usi, che ascolti quando vuoi stare concentrato, vuoi fare delle cose che ti piacciono, vuoi ispirarti, vuoi rilassarti? Usi suoni, usi la musica, che usi? Numero uno, ti consiglio di andare a provare, se non lo conosci, questo strumento che ti consente di ricreare i suoni della natura che desideri dentro il tuo ufficio, o dentro il tuo studio, persino dentro il tuo negozio, dentro il tuo esercizio commerciale. Basta che hai un collegamento a internet e vai su un sito che si chiama noizly.com dove, guardando delle semplicissime icone, puoi attivare il suono del vento, del mare, dei grilli, dei tuoni, del fuoco e della legna che bruciano nel camino, piuttosto che del temporale con la pioggia, e puoi scegliere tu quali suoni attivare e miscelarli nelle dosi che desideri. Quindi crei un suono, un mix di suoni naturali come vuoi tu, che va avanti all'infinito totalmente gratuito. Fantastico, consigliatissimo per chi non vive su un'isola fantastica come questa qua. Due, per stare super concentrato come un laser su ciò che ho deciso che voglio fare, per me non c'è niente che funzioni meglio, ma ripeto, per me poi bisogna vedere per te, del sintonizzarmi dentro iTunes, che è disponibile gratuitamente per Mac e per PC, sulla stazione radio internet che si chiama Amsterdam Royal Philharmonic Orchestra. Tutta musica sinfonica classica non stop, senza interruzioni, senza pubblicità, a costo zero, al massimo della qualità. Non sono un appassionato di musica classica, ma mi piace sentirla, e devo dirti che quando la metto sono estremamente produttivo. Consiglio numero tre, quando ho finito, quando mi voglio dare un premio, quando voglio gratificarmi, oppure quando ho bisogno di fare un sacco di piccoli task veloci, eccetera, e ho bisogno di stare su con il ritmo, con l'energia, con le emozioni, mi sintonizzo su un trio di radio veramente particolarissimo e unico. Trasmettono da Budapest in Ungheria, e secondo me sono fortissimi. Si chiama Lux Funk Radio, ed è declinata in tre risvolti diversi di musica ad alta energia di tipo Black Dance, dove ritrovo tutto il vigore, la voglia di fare, di alzarmi, di spostarmi a fare qualcos'altro, quando ho terminato il mio lavoro, ho bisogno di stare super in carica.